Ciao a tutti, questo episodio di Non puoi non saperlo è dedicato al romanticismo nel campo della pittura. Seppur abbia dato impulso anche a un nuovo modo di concepire l'architettura e il restauro, nel campo delle arti il romanticismo influenza principalmente la pittura, soprattutto verso la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX, prima in Germania e successivamente in Francia, Inghilterra, Italia e Spagna. Vediamo adesso quali sono i tratti essenziali dell'arte romantica, alcuni dei quali sono comuni a tutta la corrente del romanticismo. Il rapporto uomo-natura. La natura è vista come l'espressione del divino sulla terra, la presenza dell'assoluto nel mondo sensibile, di cui l'uomo non è che una insignificante manifestazione. La potenza della natura ispira nell'uomo sentimenti contrastanti che possono terrorizzarlo quanto rasserenarlo. Ritorno al passato medievale. Nell'arte romantica si assiste a un vero e proprio tuffo nella fede, con opere che esprimono la necessità di una riconciliazione tra l'uomo e Dio, possibile grazie a una ritrovata spiritualità. Viene anche ripreso il concetto di vanitas, nel senso rinascimentale dell'ineluttabilità della morte. Aspirazione all'assoluto e all'infinito. Secondo le istanze tipiche dell'idealismo, che traccia un filo comune a tutti i caratteri dell'arte romantica, gli esseri umani altro non sono se non una tappa necessaria dello spirito che se ne serve per perfezionarsi. Gli esseri umani quindi vivono in funzione di un infinito processo di automiglioramento dello spirito che è immanente alla realtà, in una perenne tensione verso la perfezione e l'assoluto, il cosiddetto titanismo. Ideale di libertà e concetto di nazione. Il nazionalismo, così come veniva concepito in quel periodo, quindi siamo agli inizi dell'Ottocento, non ha nulla a che fare con la sua degenerazione di fine secolo. Alla base dell'idea romantica di nazione stava infatti il principio di autodeterminazione dei popoli, per cui una comunità di individui unita nelle tradizioni, nei costumi e nel credo religioso, poteva definirsi una nazione. La pittura romantica infatti rappresenta in molti casi episodi di cronaca in cui traspare questa idea di nazione, in contrasto con il contesto storico in cui il congresso di Vienna aveva cancellato le conquiste della rivoluzione francese e aveva ristabilito un ordine e una geografia anacronistici rispetto al sentire dell'epoca. Come già accennato, la pittura è l'arte figurativa per eccellenza del romanticismo e assume sfaccettature molto diversificate a seconda del territorio in cui si è sviluppata. In Inghilterra si distinsero tre correnti artistiche, la corrente visionaria onirica, la corrente del sublime e la corrente pittoresca. William Blake, il massimo esponente della corrente visionaria onirica, e vediamo un suo dipinto in questa slide, dipinge principalmente visioni e sogni e successivamente si dedica alla rappresentazione di episodi tratti da grandi classici del passato, in particolare la Divina Commedia e il Paradiso Perduto di John Milton. William Turner, principale rappresentante della corrente del sublime, rappresenta nelle sue opere il sublime delle catastrofi naturali, quali ad esempio gli incendi, di cui evidenzia il dinamismo con una tecnica che, grazie all'uso di linee circolari e lissoidali, focalizza il centro della scena, coinvolgendo così lo spettatore nella spettacolarità dei fenomeni naturali che lo spettatore stesso aveva l'impressione di osservare come se fossero stati sfocati da una lente opaca, come in questo caso, in questo dipinto, che è una delle sue opere più importanti, del 1843 e si intitola Luce e colore, la teoria di Goethe, ombra e tenebre, la sera del diluvio. John Constable, il più importante artista della corrente pittoresca, si dedica principalmente alla riproduzione realistica dei paesaggi delle campagne inglesi e vediamo un esempio in questa slide, allo scopo di causare nell'osservatore un sentimento di dolce nostalgia. Il maggiore esponente della pittura romantica in Germania e più in generale la figura che meglio incarna i canoni dell'arte romantica è certamente Caspar David Friedrich, che dipinge principalmente paesaggi. Nelle sue opere la natura è rappresentata in tutta la sua maestosa sconfinatezza e potenza, mentre l'uomo, essere piccolo e finito, non a caso è sempre rappresentato o di spalle, come nella sua celeberrima opera, Viandante sul mare di nebbia, del 1818, o in lontananza, in modo che non lo si possa mai osservare in viso. Altra bellissima e molto affascinante opera, quella che vedete in questa slide, è il mare di ghiaccio, conosciuta anche come il naufragio della speranza del 1824. In Francia si distinguono due sottocorrenti, il romanticismo fiammeggiante, i cui maggiori esponenti sono Jean-Louis Theodore Géricault e Eugène Delacroix, e il romanticismo lacrimoso, rappresentato da Camille Carot e Theodore Russo. Géricault, seppur di formazione neoclassica, abbandona presto i canoni accademici, per riproporre interessanti soggetti di cronaca, allo scopo di far riflettere sulla condizione miserabile comune agli uomini colpiti da una catastrofe. Si pensi ad esempio alla Zattera della Medusa, meraviglioso dipinto, che vediamo in questa slide del 1819, che racconta il naufragio tragico della fregata francese Meduse, che costò la vita a 135 membri della ciurma. Anche Delacroix si ispira a episodi di cronaca del tempo, ponendo però l'accento sulla questione dell'identità nazionale. Nel celeberrimo dipinto del 1803, La libertà che guida il popolo, ad esempio, l'incarnazione della libertà si propone come spinta rivoluzionaria contro Carlo X di Francia. Non so se l'ho già detto, ma questo è il dipinto in questa slide. Bene, concludiamo con l'Italia, con questo altro conosciutissimo dipinto. Quindi in Italia si sviluppa il cosiddetto romanticismo storico, il cui massimo esponente è Francesco Hayez. I dipinti di Hayez rappresentano principalmente soggetti del passato, per lo più del Medioevo, oppure ritratti celebri di figure del suo tempo come Alessandro Manzoni o Camillo Benso di Cavour o ancora Hayez dipinge tutta una serie di opere che raffigurano due amanti uniti da un bacio appassionato. Il suo dipinto più noto, infatti, è proprio intitolato semplicemente Il bacio e del 1859, lo conoscete tutti, lo vediamo in questa immagine, e raffigura un uomo che, seppur in procinto di fuggire, infatti inseguito, riesce a dare alla donna amata un bacio appassionato e sincero, comunicando così all'osservatore il primato del sentimento su ogni altra cosa. Bene, questo video termina qui, spero lo abbiate trovato utile e interessante. Ciao a tutti e alla prossima!